In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il Rotary Club di Caltanissetta e il CF Passo organizzano l'incontro Autismo-Altre Disabilità dopo di noi. Confronto sull'attuazione della legge 112 del 2016 in programma il 2 aprile dalle 9.30 alle 13 nella sala Papa Giovanni Paolo II del centro. Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, in Italia un bambino su 77, da 7 a 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi che sono colpiti 4,4% volte in più rispetto alle femmine. L'incontro sarà un'occasione per riflettere sia sull'autismo sia sullo stato di attuazione della legge, disposizione in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, meglio conosciuta come legge sul dopo di noi, che disciplina misure di assistenza, cure, protezione, oltre che il benessere e la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità a seguito della morte dei familiari. La normativa prevede inoltre importanti agevolazioni fiscali e l'istituzione di un fondo pubblico di assistenza delle persone con forti disabilità. A fare i saluti istituzionali sarà Roberto Sanfilippo, direttore generale del CEF, Francesco Daina, presidente Rotary Club di Caltanissetta, il sindaco Roberto Gambino. Al confronto partecipano anche esperti e associazioni del terzo settore che si occupano di assistenza e tutela delle persone fragili.